Bentornati, bentornati a Ti leggo un libro, oggi nuova lettura e quindi nuova avventura. Vi faccio subito vedere di che si tratta. Eccolo qua, il libro è Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella. Questo libro ha partecipato ed è arrivato tra i finalisti del premio strega nel 2014 e ne ha vinto la sezione giovani. Un libro bellissimo, io l'ho letto un paio d'anni fa, è un libro molto ben scritto, con una scrittura semplice ma anche appassionante. E proprio per questo è un libro che possono leggere tutti quanti, gli adulti ma anche i ragazzi. Anzi, è quasi raccomandabile per un pubblico più giovane perché racconta il dramma dell'immigrazione, il dramma dei clandestini. Praticamente potrebbe aiutare i nostri ragazzi a comprendere coloro che vivono in contesti di guerra, in contesti talmente difficili da costringerli ad abbandonare i loro paesi. Nel modo specifico, Non dirmi che hai paura, racconta la storia di Samia. Samia è una bambina somala di otto anni, nata in una famiglia povera della Somalia, ma con una passione estrema per la corsa. Una passione che la porterà tra l'altro anche a partecipare ai giochi olimpici di Pechino 2008. E proprio questi giochi olimpici, proprio quell'evento sarà un punto di svolta per la vita di Samia perché la trasformerà in un idolo, in un simbolo per tutte le donne musulmane, un simbolo di rinascita, di rivalza, di forza. Purtroppo il regime islamico è un regime molto duro e, per dirla con parole abbastanza dolci, non renderà vita facile a Samia. Non vi voglio però anticipare di più perché veramente la lettura di questo libro è talmente bella, talmente intensa, talmente profonda, che io inizierei subito con la lettura del primo capitolo per poi sperare di appassionarvi e decidere di leggerlo totalmente da voi, questo libro. Non riusciamo a farlo adesso, intendo non riusciamo a leggere subito il primo capitolo in questo video perché un po' mi sono dilungata, però insomma è un tema che prende anche molto emotivamente. Lo faremo nel prossimo video, tra l'altro vi anticipo subito che nel prossimo video ci sarà una novità talmente enorme dovuta a un cambiamento netto che quindi vi consiglio e mi auguro che ci sarete per vedere questa novità. Oltre che anche principalmente leggere appunto, iniziare a leggere appunto, non dirmi che hai paura. Quindi io vi aspetto per il prossimo video e sempre in tantissimi, quindi mi raccomando iscrivetevi, cliccate mi piace, condividete, tutto quanto e al prossimo video.